Ho girato questo video per fare una recensione al lavoro che sta facendo Stefano con la mia pagina Facebook e un pochino la gestione di tutto quello che è il mio marketing online. In pratica io ero molto stanco e sinceramente avevo un po' di difficoltà a orientarmi in tutto il marasma che è Facebook e tutto quello che ci sta dietro. Spendevo un sacco di soldi e i risultati non sempre erano quelli che volevo. Poi con Stefano abbiamo fatto qualche esperimento e in pratica ultimamente gli ho ceduto tutta la gestione di tutto quello che è il mio advertising su Facebook e devo dire che intanto stanno arrivando degli ottimi risultati e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, mi sono tolto di mezzo un po' di stress. Scusate ma mi stanno massacrando degli animali strani, degli insetti mordaci. Quindi niente, da questo posto molto caldo vi sto facendo questa recensione per Stefano perché mi fa piacere che si possa anche comunicare questo fatto, che un professionista che ti segue ti permette anche di avere un po' di più tempo libero per te o comunque di gestire altri progetti e altre attività con la tranquillità che comunque il tuo progetto principale verrà seguito in maniera corretta.